Cresce in Italia così come nel resto del mondo il consumo di pesce. Per il 2017 la FAO ha stimato un consumo globale di 153 milioni di tonnellate con oltre 20 kg annui di consumo pro capite, più del doppio dei 9 che si registravano nel 1991. E secondo le previsioni i numeri tenderanno a crescere con l'Europa a fare da traino con i suoi 500 milioni di consumatori che ne mangiano in media 25 kg pro capite l'anno per un valore di mercato di 55 miliardi di euro. A fare il punto sullo scenario i produttori europei nel convegno dal titolo Prospettive e nuove sfide per l'industria europea di trasformazione ittica spiega Elisabetta Bernardi, nutrizionista e docente all'Università di Bari. Il pesce si può considerare un alimento quasi perfetto, nel senso sia per il suo apporto di proteine di ottima qualità perché apporta tutti gli aminoacidi essenziali, cioè gli aminoacidi che noi non siamo in grado di produrre e dobbiamo prendere con gli alimenti, ma anche è ricco di vitamine e minerali. E poi è la fonte principale di Omega 3, Omega 3 a catena lunga che il nostro organismo utilizza per numerosissime funzioni. Sono più di 800 milioni le persone in tutto il mondo che dipendono dalla pesca come fonte di reddito e approvvigionamento e il 97% vive in paesi in via di sviluppo. Ma per poter conservare o incrementare questo stato è necessario conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine. Audun Len, vice direttore della FAO della divisione politica e economia nel Dipartimento pesca e acquacultura. I governi, quando ci sono incontrati alla FAO quest'estate a Roma, hanno deciso proprio di non solo investigare la dimensione sociale ma anche ci hanno dato il mandato proprio di sviluppare le linee guida come migliorare la situazione nel settore. Che normalmente è buono, però naturalmente ci sono alcuni paesi dove ci sono problemi che cerchiamo di affrontare e risolvere. Afferma Gu Spastor, Presidente Assemblea Generale delle Associazioni Europee dei Trasformatori e Importatori di Pesce. Il mercato è in crescita e le prospettive sono buone. Ovviamente abbiamo delle sfide che ci aspettano, a cominciare dall'approvvigionamento e con l'economia globale è una sfida destinata a crescere perché sempre più gente vuole pesce. Un settore in espansione, come sottolinea Riccardo Rigillo del Mipaf. Per noi questa è una tradizione che è arrivata negli ultimi anni ma sicuramente la domanda è forte e c'è domanda anche di qualità. Per questo il Ministero innanzitutto sta lavorando a un protocollo per un registro di qualità nazionale. Stiamo dando tutto il possibile supporto per la trasformazione, per la commercializzazione, per la promozione del prodotto.